Ambasciatori del Made in Italy nel mondo, anche grazie all'informazione. E la missione degli atleti azzurri che sono saliti sul podio alle ultime Olimpiadi e Paralimpiadi, mordendo una medaglia e conquistando così il cuore degli italiani. Raduci dalla premiazione del Presidente della Repubblica al Quirinale, una piccola delegazione ha fatto tappa a Lanza, accompagnati dal Presidente del CONI Gianni Petrucci. Incuriositi e un po' emozionati, gli arcieri Marco Gagliazzo, Michele Frangilli e Mauro Nespoli e il re del Taekwondo, Carlo Molfetta, sono entrati in redazione, incrociando i cronisti che per settimane ne hanno raccontato l'avventura londinese. E anche grazie a voi che siamo qua, ha detto Molfetta. Poi strette di mano con il direttore Luigi Contu, foto e scambio di medaglie, ma solo per gioco e per pochi secondi. Ci avete fatto sognare, noi avevamo una redazione, oltre agli inviati del Montpietro, una redazione qua che era tutto il giorno impegnata, mi ha fatto un grandissimo lavoro e anche dei grandi risultati, come è evidente, grazie ai vostri risultati sul web. Loro ringraziano e sperano che i riflettori restino accesi, specie sugli sport meno noti. Lo sport in formazione è fondamentale, soprattutto per gli sport poco conosciuti. Purtroppo questi sport vengono conosciuti molto bene durante il periodo olimpico e dimenticati un po' la volta dopo. In questi ultimi anni ho notato almeno che si sta facendo un po' più di informazione di questi sport minori e spero che continui. E proprio il signore dell'arco italiano non ha smesso di sognare. Ci sono ancora dei mondiali, dei titoli mondiali che mi mancano da vincere, punterò a quelli e poi posso dire di aver vinto tutto, quasi tutto. A inorgogliere gli azzurri, anche le parole di Napolitano, convinto che le vostre vittorie sono proprio made in Italy, frutto della passione e del contributo di tanti. Vittorie che secondo Molfetta vanno oltre lo spray della crisi. La dimostrazione è che l'Italia sportiva non ha pagato nessuna crisi, a differenza dell'Italia di questo periodo. Abbiamo fatto un ottimo risultato, questo è dovuto alla grandissima organizzazione che c'è nel CONI. dobbiamo ringraziare il nostro capo missione, il dottor Pagnozzi. Infine, ripensando al momento dell'oro, l'atleta pugliese ha raccontato quell'emozione e ossessione. Non mi rendevo conto di quello che fosse accaduto. Avevo realizzato il sogno più grande della mia vita. Quello che aspettavo da tempo era il mio sogno, che ormai stava quasi diventando un'ossessione. Però la gioia che ho espresso dentro di me non si poteva mostrare esternamente.